Nicolás era sempre sorridente, solare, faceva festa in casa, c'era proprio, mi sto dicendo in questi giorni, tipo bollicine quando c'era lui. Aveva una preferenza per la solina piccola, mi aiutava quando la solina stava male, che noi abbiamo una bimba che non sta bene. E quindi questo era Nicolás con gli amici, vedo che ci stanno chiamando tutti, quindi penso che anche fuori si comportava così, da ragazzo solare, sorridente. Tu hai voluto lasciare un segno, una traccia, un tuo messaggio sulla sua pagina Facebook, perché ti sei sentita di fare questa cosa? Allora, io vivo da tre anni quasi, una realtà sembra un po' parallela a questa, a una vita normale. Vivo negli ospedali come Gemelli, Bambini Gesù, mia figlia è nata al Gemelli ed ha una malattia rara. Mia figlia non si sa quanto vivrà. Ho visto bambini andare in cielo e mi immagino quando la mia bambina andrà in cielo. Però una malattia tu la vivi, la immagini, la riesci a trasformare, a ragionare. E Nicolás no, perché Nicolás stava bene, ieri era felicissimo, ci raccontava i suoi sogni, volava, ieri volava veramente. E quindi siamo tornati martedì sera, per cui l'abbiamo visto per poco tempo. E io ho sempre detto, non lo so, se dovesse succedere a me, cosa farei? E mi sono sentita sola, avevo bisogno di urlarlo e di parlare con lui. Facebook era un modo per parlare con lui, anche se poi lui usava Instagram e non Facebook, però era un modo per parlare con lui. L'ho usato tutta questa notte perché io non sono stata in grado di dormire. Le persone che poi mi rispondevano, che mi stavano vicino, che volevano sapere, mi abbracciavano, mi chiamavano. Io devo dire che mi hanno aiutato. Però era giusto anche per chi chiedeva, dire che sì, era Nicolás e che è andata così. Però io chiedo veramente, anche se poi le lacrime escono, perché escono, perché comunque siamo persone, viviamo sulla terra e escono, però di essere felici. Lui voleva una festa, lui raccontava il suo funerale. Lui voleva una festa, lui voleva i rompi delle moto. È un modo per sentirlo vicino perché io ci parlo, parlo a voce alta con lui, cerco le cose, entro in camera sua, parlo con lui. E quindi era un modo, io stanotte ho lasciato la luce accesa perché lui rientrava più tardi e quindi voleva sempre la luce sotto il portico accesa. Le persone che ti conoscono dicono che hai una grossa forza interiore, hai stato affrontando molti uniti questo brutto momento. Noi siamo molto uniti perché comunque siamo una famiglia unita. Se non sei unito, veramente ti butti dalla finestra. Se fossimo solo io e lui, dopo quello che ci è successo, non lo so veramente se fossimo stato solo io e lui la reazione, però abbiamo altri figli. Si combatte, le lacrime usciranno, non lo so fino a che Nicolas mi lascerà questa forza, finché lui sarà qua vicino a me e mi darà la forza. Io non me lo voglio dimenticare perché lui è così, era bellissimo, guardava i suoi addominali, le sue tartarughe, mi rubava il telefono per fare le storie su Instagram, scriveva che era il figlio più bello che avevo e io dicevo ma insomma, però lui era così e io me lo voglio ricordare così. Voglio sorridere pensando a lui, non voglio piangere, non è giusto. Io quando lo guardavo negli occhi e lui a volte piaceva andare forte, gli dicevo Nicola, ma non me lo fare mai uno scherzo del genere perché io sono la tua mamma, muori una parte di me. E lui mi diceva ma tu sappi che io sono felice, che ho avuto tutto dalla vita e sono felice.